Cosa vorresti per Termoli? Ma diciamo che per una cittadina come Termoli serve un sindaco un po' speciale, nel senso un sindaco che sappia un po' coniugare quello che è il turismo con lo sviluppo, perché Termoli è sempre stato uno dei centri di sviluppo sia industriale che economico del Molise e l'economia fondamentale deve restare, perché insieme al turismo c'è l'economia, quindi il rilaggio delle industrie che vanno naturalmente controllate, Termoli deve rientrare all'interno del COSIB che ha tutti i diritti di starci e quindi un turismo economico che può starci perché ci sta in tante altre parti del mondo, dove c'è una buona economia c'è anche un buon turismo.